Abbiamo già fatto le presentazioni, siamo contenti di avere qua con noi Luca, era un obiettivo che ci eravamo fissati, è stata lunga, laboriosa, un pochettino difficile perché chiaramente c'erano anche altre situazioni che lui doveva valutare, il Cittadella, però noi alla fine con capacità siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo e siamo contenti appunto che possa vestire la maglia grido-rossa e darci una mano per fare più punti possibili. A voi. Allora prima chiediamo a Luca se ci racconta un po' il suo percorso calcistico che l'ha portato qui a Cremona arrivando da un'altra squadra che sta facendo benissimo in Serie B. Pre Luca. Bene, intanto buongiorno, sì ho girato molto, ho girato molte squadre fin da giovane, vengo da Cittadella che comunque si è affermata in questo campionato come una sorpresa ma ormai non più tanto e sono molto contento di essere qua e sono venuto qui per migliorarmi, per crescere come giocatore e per lottare soprattutto e ho fatto questa scelta perché ritengo che qui ci sia tutto per poter far bene e l'ho conosciuto già i compagni e è anche un gran bel gruppo quindi penso che poi le parole non servono molto ma che continuano i fatti.